E' possibile sperare che stia cambiando qualcosa nell'atteggiamento europeo nei confronti del dramma delle migrazioni del Mediterraneo? Proprio in queste ore, le ultime catastrofi sembra che abbiano attivato un'attenzione diversa. Tu che sei giornalista di un paese molto del nord dell'Europa, come vedi questa difficoltà a capire e questa difficoltà a intervenire su un tema che comunque è cosmico e universale? Allora, gli olandesi sono ben consapevoli che non possono dire un problema solo dell'Italia che non ci riguarda, anche perché sanno molto bene che moltissimi che sono in centro di accalienza poi fuggono e poi vanno a nord dell'Europa, anche in Olanda, quindi è evidente che il problema della quantità di profughi che arriva è anche un problema per l'Olanda. Però qui, adesso parlate di un aspetto, cioè quella della paura e delle grandi accalienze, dall'altra parte c'è naturalmente le persone umanitarie, ci sono sempre questi due aspetti e lo sentiamo penso in tutta l'Europa. D'una parte è un dramma quando le persone muoiono in massa, centinaia di persone spesso che muoiono annegati nel mare, questo è un dramma, è evidente. D'altra parte dobbiamo anche, se sinceri, e io l'ho anche scritto, se arriveno centinaia di migliaia di persone nel nostro continente avremo qualche problema in più, questo è evidente perché non è possibile gestirlo. E quindi anche in Olanda e in tutta l'Europa penso che abbiamo tutti e due i lati, diciamo, no? E quindi, però, sta il fatto che l'Europa è consapevole, forse in ritardo, però è consapevole che non è un problema che riguarda solo l'Italia, ma è una questione che riguarda tutti. Sia il dramma umilitario che anche la questione della massa di pofighi che vuole arrivare nella nostra considerazione. In Italia si è parlato molto negli ultimi mesi, l'ha fatto soprattutto il governo Renzi, di un'attivazione critica e autocritica sulle politiche economiche dell'Unione Europea. Cioè, qualche cosa si è detto, forse cambierà anche per il contributo dell'Italia. Questa è una percezione tutta nostra o da vicino e da lontano si può confermare questo giudizio sul ruolo dell'Italia, del semestre italiano e in particolare della figura di Renzi in questo ambito qua? Nel semestre italiano forse non è che si è avuto questa risonanza enorme che si ispirava qualcuno. Lì penso che la comunicazione poteva andare meglio. Qualcuno ci è dato a fare, qui abbiamo molto gozi, il sottosegretario, una persona molto comunicativa, insomma, lui è una brava persona. Però io penso che il governo da questo punto di vista avrebbe potuto comunicare un po' di più. A proposito dell'Unione Europea in generale, perché si può andare in specifico, si può parlare delle questioni della Grecia, si può parlare delle questioni dell'Italia, su che misura dà e che misura riceve. Possiamo dare tante dettagli, ma quello che è la cosa forse più importante è che nel percorso del tempo c'è stato un crescente presa di distanza e meno entusiasmo nei confronti di Bruxelles. Cioè sia l'Olanda che l'Italia erano inizialmente grandi fattori a favore dell'Unione Europea, erano anche fondatori, e quindi erano molto filo-europei sempre. Ma sia in Nord Europa che in Sud Europa si vede che, diciamo, questo atteggiamento così filo-europeo purtroppo ha subito dei colpi perché non ha corrisposto alle aspettative né per i Nord-europei né per i Sud-europei, anche perché c'è la crisi economica, che in Italia è molto peggio rispetto a un lato o per l'altro. E quindi, però alla fine comunque non sono i partiti veramente euro-sceltici che vincano le elezioni. Cioè quello che mi capisce, da una parte in Italia ci sono moltissimi che critichano Bruxelles, che critichano l'Unione Europea, che critichano l'euro, però alla fine è il PD, che è il partito più grande, e in Olanda è una cosa simile. Alla fine c'è una critica crescente nei confronti dell'Unione Europea, anche nei confronti dell'euro, ma alla fine i partiti che critichano l'euro e che critichano l'euro, non vengono considerati, però abbastanza credibili, per avere l'approccio definitivo per poter governare. Può darsi che adesso in Finlandia questo cambierà, poi bisogna dire per paese, in Francia può darsi che prima o poi Marine Le Pen vincerà, questo non si sa ancora, però per ora continuano comunque a governare. L'anno europeo si sta organizzando ma non diventa il genere. No, perché è la questione di responsabilità, perché tu puoi criticare, ma la questione è sempre che cosa è la tua alternativa. Tu puoi criticare l'euro, ma che cosa vuoi, per tornare alla lira, è anche sulla questione dell'immigrazione. Tu puoi dire, adesso abbiamo gestito male, qual è la tua proposta, qual è la tua alternativa. E il problema, penso, per l'opposizione, che critica a Bruxelles, che critica l'europea, eccetera, che cosa è la tentativa che propone in questo punto sempre, non è così facile. E perciò penso che tutto sommato non sfondano.